Se Paco avesse toccato l'acqua sarebbe rimasto folgurato. È proprio sicuro che non si tratti di un incidente? E lo rivestimento non era consumato. Era tagliato di netto. Lei non sembra molto stupito? Sfortunatamente no. No, temevo che potesse succedere qualcosa del genere. Non si dimentichi che parliamo dell'unico erede di un patrimonio immenso. E anche suo nonno è appena morto. Proprio in un incidente alla vecchia finca. C'era tutta la famiglia. L'elicottero, dopo qualche evoluzione, lo faceva sempre quando partiva per divertire Paco.